Ben tornati su Gameplay Channel e su questo veloce vlog ragazzi giusto per dirvi una cosa al volo dato che come avrete visto alle 15 è uscito appunto Total War Rome 2, alle 18 esce questo vlog perché in realtà ho avuto un problema ieri sera nel senso che il mio bimbo ha iniziato appunto l'asilo ha ripreso l'asilo e ovviamente hanno ripreso subito a star male quindi ha un po' di febbre quest'oggi però ieri sera diciamo già non stava bene per cui stava dormendo perché si è addormentato presto una delle rare volte ma si continuava a svegliare piangendo perché diciamo già non stava bene niente di che giusto un malanno stagionale più che altro dato appunto dal nuovamente contatto con gli altri bambini cose che succedono però ovviamente ieri sera sono stato un po' incasinato quindi sono riuscito ad editare appunto Total War finendo credo alle 2 e mezza, tra in un quarto stanotte e per cui avevo già un altro episodio in realtà registrato di Chew Point dovevo ditarlo ma solo quell'episodio in termini di registrazioni durava un'ora e mezza quindi dovevo ovviamente ditarlo per ridurvelo a un tempo diciamo decente da poter visionare quindi ovviamente non ce l'ho fatta per cui vi volevo però fare questo vlog per approfittare anche per dirvi appunto una cosa tanti mi dicono vabbè ma che te frega se ne fai 1, 2, pubbliche alle 3, alle 5 eccetera è uguale però in realtà ragazzi io sto cercando di mantenere questa media con questi orari che sono sempre gli stessi ormai già da tantissimo tempo ovvero le 15, le 18 per sopperire un po' al problema enorme delle notifiche di youtube che come sapete non manda quindi se voi avete un orario prestabilito in cui sapete che alle 15, le 18 a prescindere da youtube e quindi dalle notifiche i video li trovate è una cosa sicuramente più facile da seguire quindi ci tengo a farlo per cui mi dispiace particolarmente quando non riesco appunto a mantenere uno di questi impegni diciamo che in linea di massima il video delle 15 esce sempre a meno che davvero non capiti qualcosa di eccessivamente pesante speriamo di no ma in linea di massima il video delle 15 lo trovate il 100% delle volte quello delle 18 diciamo al 98% anche lì a meno che appunto non succedano cose di questo tipo dell'ultimo minuto imprevisti di questo tipo allora può succedere che non esca il video delle 18 ma diciamo che il 98% delle volte anche alle 18 se passate dal canale troverete per l'appunto un nuovo video volevo però dirvi anche quando ovviamente non starò a farvi un vlog tutte le volte che non faccio in tempo a pubblicare il video delle 18 per qualche problema dell'ultimo minuto per cui se capita che magari alle 18 venite sul canale e non trovate un nuovo video magari ragazzi approfittatene per dare un'occhiata ai vecchi perché ci sono un sacco di commenti che mi richiedono magari delle serie su particolari giochi uno degli ultimi che mi ricordo adesso di qualche giorno fa è stato appunto un ragazzo che mi diceva ma perché non fai una serie su City Skyline? ad esempio City Skyline ne ho fatte due in passato di serie più anche un sacco di live per cui magari ragazzi date un occhio anche alle vecchie playlist basta andare sulla scheda playlist e lì le trovate tutte perché magari potete trovare dei giochi che non avete assolutamente mai visto appunto portare da me quindi magari potete scoprire qualcosa che vi interessa che ho fatto in passato magari anche di serie particolarmente corpose come Altice Life vabbè Tar Moil ne ho fatte 5 o 6 di serie quindi avete l'imbarazzo della scelta però comunque insomma di serie sul canale che ho portato a termine comunque ce ne sono veramente tante c'è anche una playlist diciamo che ho chiamato First Gameplay cioè Primi Gameplay dove appunto trovate gameplay magari singoli o 2-3 gameplay quindi di giochi dove non ho portato una serie però vi ho fatto comunque vedere perché insomma li trovo particolarmente interessanti quindi anche in quella playlist che mi sembra abbia attualmente credo un'ottantina di video forse anche di più potrete comunque trovare un sacco un sacco di cose che appunto magari vi possono piacere quindi diciamo utilizzate magari la fascia oraria delle 18 quando capiterà spero il meno possibile però quando capiterà che magari non esce un video appunto di andarvi a riprendere qualcosa di vecchio perché potreste trovare appunto qualcosa di interesse quindi niente questo piccolissimo vlog è giusto per dirvi questa cosa io nel frattempo vi ringrazio vi ricordo quello che ho detto nel vlog precedente se volete dare una mano al canale fatelo semplicemente condividendo i video facendo conoscere il canale a più persone possibili perché sapete diciamo le difficoltà che youtube ci mette appunto di fronte che quindi è veramente veramente difficile riuscire a emergere e soltanto con il vostro aiuto si riesce appunto a ottenere un effettivo risultato perché se aspetto youtube campa cavallo che l'erba cresce come si dice come detto e come già saprete non lo faccio assolutamente di lavoro ho il mio lavoro anzi come vedete alle mie spalle sono appunto in un negozio perché il lavoro è in un negozio quindi non mi interessa per un discorso di guadagno ma perché ovviamente è una soddisfazione è una soddisfazione personale mi fa piacere quando mi iscrivete in tanti che meriterei più iscritti anche se non credo che meriterei chissà quanti di più però apprezzo questa cosa ripeto se volete dare una mano e vedere appunto il numero degli iscritti salire potete farlo solo voi condividendo appunto i miei video sui vostri social detto questo quindi io vi ringrazio di tutto anche per come state commentando tutte le serie vi do appuntamento ovviamente come sempre nei prossimi video e nei prossimi vlog ciao belli